Un restauro conservativo volto a valorizzare al tatto e alla vista tutto quello che potesse parlare di questo edificio, dalla lunga e interessante storia. Così l'architetto Eugenio Campari, titolare insieme a De Leonora Campari, dallo studio incaricato di redigere il progetto di riqualificazione e recupero dello stabile storico, denominato ex corpo di guardia, situato a fianco di una delle porte principali cittadine, Porta Umbriano. Il primo impianto dell'edificio risale addirittura al XV secolo, edificato a ridosso dalle mura venete, fortificazioni militari costruite nel 1400, le cui tracce sono emerse durante l'opera di restauro, l'ex corpo di guardia negli anni ha assolto diverse funzioni, da deposito di carri, officina di ciclo e motocicli, garage e pesa. È soffodibito anche a postazione di guardia dei militari, a protezione della porta della città di Crema, da qui appunto la definizione del nome, arrivata fino ad oggi, ex corpo di guardia. Un restauro durato quattro anni, che ha ottenuto il place della sovrintendenza ai beni culturali. L'edificio risulta composto da vari corpi di fabbrica, l'architettura è tipica dei primi dell'Ottocento, mentre la sua facciata principale è stata edificata nel 1919. Siamo molto felici di aver potuto ridare questo immobile alla collettività, almeno nonostante la destinazione sia privata, ma visivamente mancava solo questa parte sulla piazza. È stato impegnativo, in quanto avevamo appunto dei vincoli della sovrintendenza che abbiamo dovuto, con la quale abbiamo collaborato per realizzare questo progetto. Da vecchio rudere caduto in disuso di proprietà comunale, l'immobile è stato venduto ad una società immobiliare che ha commissionato il restauro. Ora lo stabile, completamente riqualificato, è pronto per ospitare la filiale cittadina della Banca Popolare di Milano, che si trasferirà il 4 luglio con 11 dipendenti. La Banca Popolare di Milano è a crema dal 1984, quindi una presenza importante, storica, che siamo molto contenti di essere in questi nuovi locali, che rappresentano anche un pezzo storico importante della cittadina. La vecchia sede rimane aperta fino al 30 giugno, 1 luglio trasloco e qui apriamo il 4 luglio.